Poi tu una sborra mi dici! Ma se tu mi dici una sborra! Matteo dai Ciao Matteone, un salutone Oh È finito di fare il coglione o no? È finito? No, dimmi se è finito di fare il coglione Se mi dici ho finito basta, ho finito così Ho finito? Ok Però potevi vestirti bene, posso dirti? Ma non è che vestirsi legante vuol dire che vuol dire vestirsi bene No, hai tralasciato, trascurato, sviluito questa live, posso dire? Eh? Guarda che differenza Guarda come si, guarda, oh, guarda che le proporzioni sono quelle, vieni vicino Dove? Aspetta, vieni qua Guarda che si vede la nostra differenza di altezza reale No, di là, di là, di là No, no, non è vero Se vai un pochino più indietro, eh, no, no Sono un po' più alto io Ma non sono alto 1,60, sembra alto 1,62 così Ma va, mica, ma arrivi qui Oh, facciamo una cosa, Simo Andiamo a Tenerife da Giulia Ma siamo fidanzati entrambi Sì, è efficiente La scordi proprio sempre, eh Ma va, me la ricordavo, mi ricordavo di Virginia tranquillamente Tu l'hai mai vista? La tua fidanzata o Giulia Ottorini? No, la mia fidanzata La tua fidanzata? Certo che l'ho vista Oh, aspetta, mi ha scritto una persona Lei no, di sicuro Mi ha scritto Giulia Mi ha scritto Giulia Giulia Ottorini? L'ho scritto Giulia Ottorini Ma senti un attimo Ma la tua fidanzata è gelosa Se vai tipo, non so Vai a fare una vacanza con Giulia Ottorini Secondo me sì Come la viva sta roba? Sì, la viva male Come devi viverla? Cioè, come se tu La tua no? C'è un problema? No, no, di una voglia, no? Di brutto, certo Ma immagino che tu lo faresti O no? Sì, sì Ma per me fingono entrambe, posso dire Dici? Sì E secondo te stanno con noi solo perché siamo tipo rossi e greenwood? In realtà posso dire È un deficit Cioè Cioè, provo a metterti di fianco Cioè, è brutto affiancarsi comunque Come Da figure come la nostra Però comunque guadagniamo un pochino, eh Se lo sappiamo bene entrambi Che comunque Qualche soldino ce lo portiamo a casa Vabbè, ma non pensiamoci Godiamoci, godiamoci la nostra favola Facciamo così Ma te tipo Magari ti è mai capitato Non so Magari Dopo che la baci Tipo Come è successo? No, perché a te? No, no Ok, diceva solo per dire Ok No, ci sta, ci sta Era per dire No, invece ho visto che tu Paghi sempre tutto te O dividete di solito? No, paga sempre tutto lei Ah, ora sei stronzo Sì, sì Sì, sì, certo Ma è così Cioè, tutto lei? Libertà, libertà Tutto, tutto Adesso addirittura Perché avevo il contratto d'affitto della casa 1.500 euro al mese Che è intestato a me Ok E facciamo metà E ho chiamato il proprietario della casa Perché mi sono dato i coglioni Le donne, libertà, libertà Ho chiamato il proprietario Ho fatto cambiare Adesso è nominata lei Ma lei Ma lei Vivete assieme? Sì Ah, ok È fatto bene È giusto sempre di vivere Io l'altra volta Ci ho litigato Perché è sempre giusto di vivere È giusto Ma che cazzo vuoi? Ma sono i miei soldi Ma oh Ma sono 20 euro 70 euro Oh, tirane fuori 35 al sushi Ma a parte gli scherzi A parte gli scherzi A parte gli scherzi Tu con la tua ragazza Se tu vai a cena con lei Che fai? Dipende Generalmente offro Ma dentro di me vorrei che si divesse sempre Ok, no Allora Generalmente offro anche io Eh, esatto Generalmente io offro Allora A parte che è bellissimo Quando ho anche solo il gesto Di dire No, dividiamo Quella roba lì Secondo me è proprio bella Perché Mi è capitato una volta Almeno Nella tua vita Tra l'altro Sì, no, no Nella mia vita in generale Anche la mia Però No Però Con le relazioni in cui sono ora Sono molto contento Perché comunque Anche solo il gesto Di dire No, dividiamo E a volte comunque Dividiamo pure Molto spesso pago io Magari andiamo anche Ristoranti di un certo tipo Cazzo è bello Cioè è giusto così Ma perché no Se c'è il suo lavoro Perché non Non siamo tirchi Chat Non siamo tirchi Ma è giusto Ma sì Ma lascia perdere Ma lascia perdere Ma mettiamo Sto fa ste roba Ma io guarda Ma la gente lo sa benissimo Che è Nel senso Uno che pensa che non sia giusto Dividere È un idiota Quindi io Degli idioti Mi pulisco il buco del culo Prendo le palle Ce le sciacquo sopra Però Basta Però chi di scusa Tutti gli idioti che ci guardano Gentilmente A tutti gli idioti che ci guardano Gentilmente Ci voglio rispetto per tutti Ma paura di nessuno Ricorda sempre No Beh quello che stavo dicendo Prima di salutarti È che notizia all'ultima ora Che Giulio Otterini È iniziato a seguire Berlini in questo momento L'unico che è iniziato a seguire Tra l'altro Prova a vedere se è seguito Ma veramente Seguirlo Ma attacca se potrebbe averlo bloccato Secondo me Aspetta calcola che c'è Vai Prova a cercare sta roba Che nel mentre C'è un mio piccolo DJ Che ha maggiorato un picco Ha maggiorato un piccolo Mashup Sì è vero No se qualcosa di Oddio Un attimo Vai Scusa Fai un attimo vedere La cronologia di Google Per favore Ma di chi? Tua La schermata Google La mia? Sì schermata Google Metti un attimo la schermata Google Schermata di Google mia Perché? Che ho fatto? Scusate un attimo Per godermi sta gag No no Non è una gag bro Cos'è? Vai dai Come fare? Cos'è? Ha un potenziale Selbatico lì? Non c'è nessun Pornhub Selbatico lì assolutamente Andiamo avanti Stavo dicendo Allora eccoci qua Sentiamola La sto scaricando La sto mettendo Adesso Ok qua Al volo Ho sito porno preferito? Pornhub sempre Ma tu cerchi a caso? No 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 Cerco categorie particolari Cioè io cerco Io ho cercato Sono arrivato a un certo punto Nella mia vita Che non so Cercare Trans Anche io Poi io di solito Cerco strange porn Perché voglio Cosa sia strana Anch'io Ma anch'io Tutte streper Perché mi sono abituato Della normalità E quindi voglio Delle cose un po' strane Per questo Bravo Ma hai visto tipo I porn con i cavalli? Cioè tipo con Gli animali? No Cioè non credo Siano illegali Ma erano Credo che Non li ho mai visti Non li hai visti Non esistono Credo che non si possa Farsi assieme Però ho visto Un ragazzo Che si metteva Il suo pene Nel culo Nel culo Vero L'ho vista anch'io Sì Ma è follia Cioè deve avere Il cazzo duro Ma che comunque molle No 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 Io nel senso Non era particolarmente duro Cioè riesci sereno Hai già provato? No Però basta immaginarlo Attenzione è arrivata la canzone Sentiamo Può essere Occhio che può essere una merda Perché il signor Paolo È un po' una merda È un DJ della Madonna Deletore Saba Matteo Deletore Saba Matteo Mi fa male Tipo te Mi chiedi che cosa vuoi Stai solo che va Mi siano solo Mi sono rosso Io la scopo Con la candida Ne sto rosso Pieno di sangue Anche se ho la minchia pallida Le piace la matita Gliel'ho fatta Minchia Dio Non sono Marcilena Paolo Non sono Marcilena Porca droia Oh Ma che musica Poi stanno andando avanti Ci siamo Bello cazzo Posso dire Posso dire Hit la zecchata Paolo Stavolta Sì è molto bello Aspetta Voglio risentirla Scusa La canzone è quella lì Sì La canzone è quella lì Che hai fatto Dalla tua tipa No Dain club Sì È molto ricchiabile di tornello Perché non la metti su No Perché? Perché non mi va Perché non ti va Eh perché non mi va E qual è la parte del Non mi va Non mi piace Non mi piace Peccato Non è un pezzo molto ricchiabile Eh facciamo un fit allora Probabilmente anche il meglio dei miei Quindi No facciamo un fit Che fit hai fatto te scusa? Io ho capito No Meglio delle mie canzoni Quella di Ti saluto Siamo arrivati alla conclusione Di questa live storica È stato un piacere Passa la volta che ci vediamo dal vivo Non ci alziamo le mani Va bene Non ci picchiamo la prossima volta giuro Non picchiamoci va bene Vai ragazzi Ma è stato tu eh No no Ma è stato tu le mani ragazzi Aspetta che mi chiedo La chat ti chiede rp Tu vuoi fare rp? Va bene Ci diamo già un civico Eeeh